Mi piace sta corsa, mi sono vendicato, vendicato, con Peret, cioè con Norris, guardate, ok che fate il campionato perché lui è testo nel campionato però, non si può fare così, scusa Russell però c'è, guardate c'è. L'ho fatto, c'era io, vedete, vedi, c'era io, scusa Peret però ci vuole qua il diritto giusto perché non ti ha penalizzato ma lo devi essere buttato fuori quindi, scusa.